Pensare di avere l'avversario a corta distanza, stare in questa postura, quindi un po' flex in avanti con le spalle in avanti, e i gomiti giù e gli avambracci paralleli. Se state cosa che succede spesso con i gomiti aperti, qui avrete molta possibilità di essere colpiti con i pugni, ma soprattutto con i calci. Quindi, gomiti, e qui vedete che ho braccio e avambraccio che veramente già mi fanno un guscio, e io posso leggermente, per esempio, il diretto sinistro, il gancio, il montante, sono movimenti così simili, che se io anche vedessi, non potrò mai sbagliare un colpo col braccio sinistro e un colpo col braccio destro, semmai col braccio sinistro vedo che parte e non capisco che colpo è. Cioè non succederà che qualcuno mi dà un colpo da questa parte e io per sbaglio alzo quest'altro braccio. Cioè paro, per esempio, il jebbo, ma sono parato anche per il gancio e anche per il montante. Se avessi parato un montante, più che portare avanti la mano, avrei parato pensando col gomito. Ok? Se vado a mettere il gomito qui per parare il montante, al massimo poteva essere un gancio. Non mi sbaglio a vedere un gancio e invece era un diretto. Quindi invece che portare avanti il gomito, se l'avessi portato avanti il gancio l'avrei parato lo stesso, se vedessi il gancio metterai più chiuso, ma vedete che vengo avanti, quindi per il gancio sarebbe una parata perfetta, ma anche per il montante. Quindi dovete cercare di pensare, sto parando quel colpo, quindi per quel colpo la parata è perfetta, ma in realtà questo tipo di parata un po' protegge anche dagli altri due colpi simili. Quindi mi basterà vedere, si muove il braccio destro suo, cioè arriva qualche cosa da questa direzione, sicuramente è questo braccio che si deve interessare, perché le cose che arrivano da qui, io uso questo braccio. Quindi cancellate totalmente tutti gli insegnamenti, i colpi di destro si parano col sinistro, i colpi di sinistro non ci arriveremo mai così. Le cose che arrivano da qua si parano con questa, le cose che arrivano da qui si parano con questa. Del resto se siete a tavola e qualcuno vi dice mi passi il pane e il pane sta lì, tu farei così e glielo passi, non fai quest'altro gesto. Siamo qui, quindi se io vi dirò diretto destro, gancio sinistro, questo sarà il gesto da fare, puntare a farlo lentamente e farlo bene non è l'allenamento giusto. A noi ci hanno insegnato, devi fare le cose per bene, sì, ma fatto bene e lento è un metodo che non funziona. Nel combattimento è meglio se lo fai così così ma già più veloce. Noi dovremmo proseguire velocità e tecnica, velocità e tecnica, velocità e tecnica. Non possiamo tenere a zero la velocità fino a che non lo facciamo molto bene. Questo ci fa sentire più rilassati. No, no, prima voglio capire bene il movimento. Non lo capirai mai, perché se veramente un giorno lo capirai, allora vorrà dire che chi l'ha studiato per anni è il pugile che studia proprio solo quello. Dopo tre anni, quattro anni, cinque anni l'avrà capito. Perché lo studia ancora? Perché non si finisce mai. Quindi non lasciamo una delle caratteristiche che ci interessano, cioè la velocità, non lasciamola a casa fino a che non abbiamo il seguito tecnicamente perfetto. Se abbiamo qualcosa che arriva da di qua, io la guardi e alzo questa. Se ho qualcosa che arriva da di qua, alzo quest'altra. E ho risolto tutti i miei problemi di complessità. Attenzione Luca, non avere le braccia qui staccate, ma tieniti flesso, un po' gobbito, come un guscio. Ok? E attento Giulio, che se pensi a un colpo basso non ti devi scoprire la faccia, se pensi a un colpo alto non ti devi scoprire troppo il fegato o la milza. Proviamo ancora, pronti? Vuoi imparare a combattere e vincere nel sandà? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho vissuto per 26 anni dentro la mia palestra, perché volevo diventare il migliore nella mia disciplina. Sono conosciuto infatti per aver vinto 106 incontri e per essere quindi l'atleta più titolato in Italia nel sandà a contatto pieno. Vuoi sapere come ho fatto? Unisciti ai miei studenti, fai una lezione gratis con me, datti questa opportunità. Clicca il link che trovi in descrizione.